Dimmi dove e quando vai e quando vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, hai tolto anche la pietra, sei proprio la brutta persona. Non ci giro. Allarca la pietra. Non mi sta sul coglione, non c'è verso. Dai, che ti faccio dei seguitori. Dai. Ma non ci giro, non ci passo. Sì, sì. per la gridare un po' lo rompo ancora lì guarda che ce la fai guarda sei proprio una brutta persona oh adesso voglio fare un giro e non giri adesso dai dai e basta almeno non c'è più ho messo il sasso e basta è peggio adesso ma adesso faccio il sasso non c'è più 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 vedi che senza tronco la faccio no ma tutto il tronco viene sul sasso e ma il sasso ci passa sopra sul sasso ci passi sul tronco no basta mi sono stufato mi avete fatto spostare troppa roba oggi non c'è più 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 si ma hai sentito la sua prisione se la faccio più ma io con una prisione così neanche due minuti è come guardare il buttacco di una volta col filo veramente c'è la prisione che si che sei un meccanico non c'è più non c'è più ci saranno qualche lebole quindi devo chiamare qualche lo Stefano